Gli intrenditori veneti che stanno invece assumendo grazie alle nuove regole sul lavoro cosa sono dei pochi? Ma cosa dici? Sono del 7 marzo in vigore il Jobs Act? Ma c'è la legge di stabilità! Ma cosa c'è? Sarà così buono? Assumono prima che entri in vigore... Allora... Non mi scusi, è così buono il Jobs Act che prima che entri in vigore assumono con le regole precedenti? Cioè questa ragione, il Moretti pensiero. Che mi sembra essere in un mondo parallelo. La risposta della Moretti è... Ma sto tranquillo, però io rispetto perché non lavoro e non prendo il giro dicendo che va tutto bene. Per quello mi arrabbio, scusami se mi arrabbio. Però mi arrabbio quando vedo le persone che non mangiano e le famiglie che non arrivano finalmente. Il mistero del Jobs Act preventivo. Stai parlando con una tua ex collega che si è dimessa dal Parlamento europeo per girare il Veneto e per parlare dei problemi della gente con la gente. Quindi ti assicuro che io ho visitato già 272 comuni, ho parlato con tanti sindaci anche della Lega, mi sono confrontata con 70 imprenditori e tantissime persone che lavorano e non lavorano purtroppo e ti assicuro che grazie a Dio c'è la ripresa e c'è la fiducia e la speranza in questo Paese.